In viaggio con Abinsula. Noi siamo un'azienda che cresce, cresce quotidianamente, quindi ogni mese abbiamo colleghi nuovi, ogni mese facciamo lo sforzo di insegnare loro questo mestiere, anche se poi arrivano già particolarmente bravi, dobbiamo ammettere. Però questo sforzo sta diventando sempre più faticoso e soprattutto per tenere il passo della crescita che abbiamo in mente, che è abbastanza ambiziosa. Per questo motivo abbiamo pensato a un'academy, e quindi stiamo preparando un piano di investimento per realizzare un'accademia dove insegnare in collaborazione con l'università il mondo della trasformazione digitale e tutto quello che è digitale a uso e consumo delle grandi aziende con cui noi lavoriamo. Il nostro sogno è partire dalle scuole, magari dalle scuole elementari, quindi cercare magari qualche progetto di ricerca, l'abbiamo già fatto però magari in ambito privato in Antonio, però partire proprio, cercare di mettere la programmazione o materie innovative, come un po' il mondo adesso chiede, cercare di insegnarle già da una scolarità precoce. Il lavoro che stiamo facendo noi può essere un'opportunità per tanti ragazzi, quindi cercare di insegnarli già dalle scuole, ad esempio elementari, scuole elementari o medie, i concetti della programmazione.